Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FabiJ Ed oggi siamo sul secondo speciale, quello dei 300.000 iscritti Dovevo riprendere il fiato, volevo veramente ringraziarvi per questo traguardo Anche se l'altro giorno vi ho ringraziato per i 250.000, non me ne frega niente Ve lo ripeto allo sfinimento, cercherò sempre di divertirvi nel migliore dei modi Vi giuro, mi impegnerò al massimo per farlo Perché vi meritate di tutto per quello che state facendo Quindi grazie veramente di cuore Comunque ragazzi, spero di avervi commosso con questo discorso Sdocinato perché state tutti piangendo, vero? E direi ragazzi che possiamo iniziare con il video Allora, premetto che questa è una cosa che mi avevate chiesto Sin da quando avevo aperto il canale Ma non l'ho mai fatta per paura che non andasse come l'aspettativa Infatti in questo preciso momento mi sto cagando addosso Perché non l'ho ancora registrata Sto per registrarla e non so come andrà Voglio provare ad incontrarvi singolarmente in chat Tipo con la webcam Infatti ragazzi, quando vi ho chiesto consiglio su Facebook su sta cosa Mi avete risposto che esiste un sito chiamato Omigol come mi avete scritto nei commenti Dove praticamente si può scrivere una tag E tutti quelli che hanno quella tag si possono incontrare E quindi ragazzi direi che ci siamo Possiamo mettere come interessi comuni la Nutella Perché non c'è nessuno che non ama la Nutella Se tu non l'ami Guardati bene le spalle amico mio Perché ti vengo a cercare Ok ragazzi, dovrei esserci Siete un casino, porca troia Aspettate un attimo Allora, devo scrivere Nutella Nutella Perfetto La cosa è alquanto strana Ciao Amico mio non ti sento C'hai una webcam ma non un microfono È strano E niente, vuoi salutare qualcuno? La nonna, il cane? Dimmi quello che vuoi Aspetta, 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 aspetta Sei calmissima Calma, calma Tutto a posto Aiuto Mi sta parlando Fermatela Prendete No Fermo col telefono Fermo col telefono Ragazzi sta progettando un attentato Prima mi ha fatto spaventare a morte Adesso mi fotografa Dillo che lavori con la CIA Dillo Mi sta a fare il video Ah il video mi sta a fare Minchia E il video mi sta a fare C'è Fabi J Bravo Fabi J Benissimo tantissimo Grazie Grazie mille È un grande Mi fai morire da ridere Grazie Continuo a fare questi video Perché sei forte Non smette tanto Vieni qui Nonna vieni qui C'è Fabi J C'è la nonna E tutti La dinastia Ma venite così perché siete Siete anche voi Over 9000 Ci salutiamo Mi devi spostare Sposo se ormai A benedizione ce l'ho Quindi sono a posto Ok Ciao 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 Mamma mia ragazzi Mamma mia Voi là Oddio Oddio Ciao bello Amo questa cosa ragazzi È fantastica Voi là Wey Wey Un abbraccione Vieni qui Vieni qui Dove sei Vieni abbracciami Ti presento anch'io il mio gatto E questo è il mio gattino Amico mio Ti piace È bellissimo È felice di vederti Ciao Sei felice di vedermi Potrei essere un fake Questa è la domanda Che ti porrai per il resto Della tua vita Non piangere È una cosa veramente dura Da credere ma lo so Calmi No No Non chiedere aiuto Non chiedere aiuto È una domanda Della quale devi rispondere Tu Non riesco a parlare Perché sei emozionata Sei emozionata Dimmi Dì almeno un ciao Un ciao Me lo fai Un ciao Eccola Grande Grandissimo Un mi piace per il ciao Perché Cioè Ci vuole tempo Lo stampo Una Ah sì Aspetta 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 che mi metti in posa Voi là Com'è Aspetta 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 Fermo lì Fermo lì Senza una lente Amico qui presente Come stai Tutto a posto Mi sembro Mi sa che mi sembro Non sembro troppo vegeta Tipo che Adesso vedo il tuo livello It's over 9000 Esplosa la bomba Dov'è Dov'è il kamikaze Oddio Oh mio dio Oh mio dio Ciao Anche il papà dietro Il papà è il mio fan Aspetta aspetta A fare la foto Aspetta che mi metto In modo serio Ah no Sto c'è nel video Direttamente Ah ok Perfetto Allora mi metto A fare cose normali Bene Questo puoi condividerlo Nei prossimi documentari Su come si evolve la scimmia Ho trovato Justin Bieber E non fa BJ Che delusione Ebbene Te credo Cazzo Ebbene Ti che vai a trovare Justin Bieber E non fa BJ Ma scusa Che stai C'è anche il tuo cane Il tuo cane è il mio fan Sì Allora è Doggy J Attenzione Dov'è Doggy J Dov'è Doggy J Assolutamente Voglio Doggy J Adesso Voglio Doggy J Ah fermo Doggy J Doggy J Fai il tuo dovere Da segugio Divora Questa Questa animale Inutile E' fantastico Perché non pensavo Ehi la Com'è Ciao Tutto a posto Cos'è Assassin's Creed Girl version C'è il microfono Microfonino Ma cosa ci faccio alle ragazze Io ve l'ho detto ragazzi Guarda Just Dance Se usate i movimenti sensuali Funziona Ti sto cercando da un'ora Ma stai tranquilla Stai tranquilla 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 Rilassa Ti sospira No Stai tranquillo Sospira No 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 Stai tremando Stai tremando Facciamo con me Lezioni di yoga E di respirazione Con Fabi J Fai così E ti calmi Ok Vai Esatto Ok Perfetto Ragazzi Ma perfetto Io non posso essere più Orgoglioso Mi segui da tanto Ma ciao neanche a te Ciao 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 What's the power say Balla anche tu What's the power say Non ti posso credere Salve What's the power say Che freddo fa in terra del russia D grade Temperature grade vodka Un saluto marziano Fammi un saluto marziano Un saluto Un saluto Ecco Vai 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 Ciao ciao What's the power say Non ci credo Non ci puoi credere Aspetta Voglio farti una foto Almeno così amici Fammi una foto Perché 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 Fabi J Sei così brutto Ti ricordavo più bello Perché 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 Sei brutto Come stai Da posto È tutto ok Bene Fammi Fammi Che cazzo hai fatto Una scultura È una scultura Ma guarda Che cazzo ha urlato Il gatto Lo leggi Lo leggi Quello Lo leggi Quello Vedi cosa c'è scritto Non ti ama nessuno Posso fare una foto Prima che te ne vai Posso fare una foto Fai una foto Fai una foto Perfetto Vai Che cazzo Che cazzo ha urlato Le trappole Ci deve dare Tutte le stesse vite Che ci ha tolto Quel maledetto Stratto No No Maledetto L'hai ucciso Che è questo Un acquario Papà Allora Questa non è una cosa normale Quando la finisci Che devo vedere la televisione Non riesco a vedere niente Col casinito Yo bro Niga 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 Bro No devo scattarmi una foto Vai scatta la foto Scatta la foto Io potrei tentare il suicidio Da un momento all'altro Inducimi a fare il contrario Dimmi tu chi sei Fatti vedere Tu uomo Ah sei una ragazza Ok allora posso evitare di suicidarmi Ciao Come stai? È morta È morta È morta È morta Tutto a posto Non c'è bisogno Stai tranquilla Stai tranquilla Tranquilla Sono due ore che ti c'è Oh addirittura Grazie mille Troppo centi Quanti complimenti Esageratissima Va bene Grazie mille Sei fantastico Mi chiudi il video col telecomando La webcam Ciao Ci vediamo Ciao ciao Hai trovato dopo Favij 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 C'è una cosa Sì 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 Ho messo tre quarti d'ora a trovarti Eh scusami Scusate tantissimi Cerca di capirmi Siete in troppi Ci ho provato a fare più veloce possibile Che c'è il cane dietro Che figo è Ma un altro Un altro doggy j Ah 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 No Non è lui No Sono un fake Sono un fake Mi beccate subito Siete comunque entrambe over night Ah il dagli occhiali mi ha riconosciuto Ci avete preso in pieno Ho scritto Calme Tranquille Come state? Si fa forse? Oh no Oh no Oh no Oh no A terza In tre Sì Sono tre ore Che ti perchiamo Tre ore Scusa E c'è tanta gente Ti sta Cos'è quello? Yogurt e patatine Ti sei messa a girare un eagle con lo yogurt e le patatine Allora volete lasciare qualche ringraziamento speciale? Pensavo voleste ringraziare lui Ciao Ciao Sto che non ti ama nessuno Fai schifo Ciao Ciao a tutti Vabbè ragazzi direi che può bastare Per oggi mi sono divertito Un casino Vi giuro è fantastico Farò sicuramente tre episodi su di questo Perché sono epici Però visto che me lo chiedevate tanto Per questa volta ho deciso di fare un qualcosa di completamente diverso Se vi è piaciuto ragazzi fate quello che volete Lasciate un mi piace Condividete su facebook Fate quello che vi pare Siete liberi Comunque ragazzi l'importante è che vi siate divertiti E noi come al solito ragazzi Se il video è piaciuto lasciate un commento mi piace Anche alla pagina di facebook Che il commento di video trovate nella descrizione Se non siete ancora iscritti iscrivetevi E noi ci ripetiamo in un prossimo video Bella ragazzi E noi ci ripetiamo in un prossimo video